Appunto, è per una piattaforma generalista la formula il tutto o niente. Che cosa significa? In tre parole il progettista, il soggetto che propone un progetto, stabilisce la soglia economica che vuole raccogliere e la deadline temporale, cioè il tempo in cui il progetto starà online. Il progetto costruisce i suoi contenuti, e poi vedremo nello specifico dopo, e poi mette il progetto online. Se alla scadenza il progetto ha raccolto o superato anche ad libitum, quanto vuole, la soglia che si era prefissato, raccoglie i fondi. Se non ha raggiunto quella soglia economica, il tutto fallisce, ma le transazioni, le offerte che erano state fatte fino a quel momento, proprio non sono neanche uscite dai conti di coloro che avevano fatto l'offerta. Tutto questo si basa su un sistema che è Paypal, che è un sistema totalmente gratuito, molto semplice, che ha soltanto dei costi di transazione nel caso in cui le transazioni vengono poi realmente effettuate, e che consente appunto di congelare e sospendere le offerte. Che cosa significa? Che quando voi venite a fare un'offerta su Apple al progetto, se andate a controllare i soldi non partono dalla vostra carta o dal conto Paypal, sottoscrivete una sorta di pagherò che si concretizza fisicamente alla mezzanotte, alla scadenza del progetto. Se il progetto non è andato a buon fine, per colui che fa l'offerta e per colui che ha messo il progetto sul sito, non è costato assolutamente niente, ci hai provato molto banalmente, quindi da questo punto di vista è uno strumento che finché non si concretizza è totalmente gratuito. In caso di successo Apple ha un 5% di servizio, diciamo, che noi tratteniamo sul successo, sulla quota che il progetto ha raccolto. Perché è importante questa formula? Anticipo una cosa che dirò dopo. Perché ogni donatore potenzialmente è interessato a spargere la voce sul progetto, perché se altri non fanno l'offerta come l'ha fatta lui, il progetto non va a buon fine. Quindi tu stesso diventi portatore di interesse che quel progetto vada a buon fine e suo ambasciatore, perché ti preme diffonderne la notizia, perché se gli altri non vengono a fare l'offerta non se ne fa niente. Quindi questo è un meccanismo, insieme all'idea di una deadline temporale compressa, che fa sì che si stimoli a fare la corsa, ad andare a fare l'offerta, perché è a scadenza, che è un meccanismo psicologico abbastanza forte, questa è, diciamo, l'architrave su cui si basa il funzionamento di Eppela in generale. Dunque, molto molto velocemente, l'idea è del 2010, autunno del 2010, la messa online è il 2 maggio del 2011, in cui i mesi ci passano per me dei capelli bianchi, dei chili persi e poi ripresi, cioè la follia di una start-up tecnologica con un livello di sofisticazione tecnologica discreta, che con quell'integrazione di un API di PayPal, piccole e grandi cose che fanno sì, noi siamo usciti in beta dicendo, scusate se ci sono degli errori, aiutateci a migliorarlo, segnalatecelo, perché oltretutto, come potete capire bene, un sistema che ha delle transazioni economiche all'interno, se c'è un bug, è, se posso dirlo, purtroppo viene registrata uno sputtanamento sommo, insomma, tu ne va della tua credibilità e della credibilità del progettista che ha messo il progetto sulla tua piattaforma, per cui in quei mesi non abbiamo veramente dormito la notte per farlo. Ora io vi salterei questo video, vi farei invece vedere poi quello successivo un attimo per spezzare, perché è carino, questo è il video con cui ci siamo presentati, che ora partirà sicuramente, ma noi lo saltiamo, lo trovate comunque sul sito, era un piccolo video di animazione di un minuto che spiegava il meccanismo che vi ho già spiegato. Dunque, il 2 di maggio siamo andati online con una versione di autofinanziamento, cioè era ovviamente un'operazione di comunicazione per far parlare di noi, è partito anche non volendo. Scusate. Dicevo, il 2 di maggio siamo andati online con un vuoi eppela? Dacci una mano a farlo, quindi finanzialo. E abbiamo raccolto 12.000 euro in un mese e mezzo, mi sembra, quasi due. No, che dico, un mese, pieno, spaccato. Ovviamente è stato un po' un volano di comunicazione per noi, è stato un po' il sasso lanciato nello stagno, che ha fatto abbastanza parlare di noi, come vedremo dalla rassegna stampa successiva, che si collega al discorso che facevamo prima sul quanto ti fa ricaduta positiva sul pubblico farti una campagna di pubblicità classica e quanto ti fa invece ricaduta positiva che i giornali spontaneamente arrivino a parlare di te perché sono interessati al tema che è molto nuovo. Io ancora oggi, fortunatamente, faccio un sacco di interviste ed è l'unica cosa a cui non dico mai di no, anche se mi chiama l'ultimo gazzettino minuscolo dell'ultimo paese, perché di questo sistema più se ne parla e se ne parla a tutti, più arriva a conoscenza della popolazione, per cui per me è la gran parte della mia attività. Invece il 6 di giugno siamo andati online con i primi progetti. Qui abbiamo fatto una carrellata velocissima di tre progetti per farvi capire che cosa funziona. Questo è il nostro primo progetto, ah non c'è Teresa perché ovviamente poi Teresa vi parlerà direttamente del suo, non perché non sia stato un progetto di successo. Questa è Chiara Lascura, Chiara Lascura si è presentata fantasticamente, è stato il nostro primo progetto di successo, pochino pochino, 5.100 su 5.000, però il suo lo ha fatto. Lei è una designer vegana e fa delle magliette, degli oggetti carinissimi a tema vegano, ce n'è una con un gattino disegnato sorridente carinissimo tagliato a metà con i buchini tipo mortadella con scritto mangeresti il tuo gatto. Sembra una cosa assolutamente trash, in realtà sono deliziosi perché lei ha quello stile adorabile. Forza di questo progetto? Parla una nicchia, tutti i vegani d'Italia sono venuti su Eppela. La nicchia di coinvolgimento, la rete sociale di un progetto del genere è altissima, perché i vegani sono pochi, molto interessati a tutto quello che riguarda i loro temi, e molto in relazione e comunicazione attraverso blog e social network. Per cui lei ha avuto delle offerte da vegani americani, da un gestore di un blog che si è innamorata delle sue cose. Per cui insomma il suo progetto esemplifica bene la capacità di fare un buon racconto di sé, che vedremo dopo, e il fatto che lei abbiano parlato a una nicchia molto ben costruita. Il secondo progetto è un progetto più classico, è un cortometraggio, Quelle state al mare, loro sono state molto brave a costruire delle buone ricompense, poi le vedremo dopo perché ci hanno realizzato una sorta di video tutorial. Il terzo progetto è un evento molto carino, visibili libri, abbiamo messo uno screenshot del video perché la loro forza sono stati i video. Loro sono del nord, scusate se non mi ricordo di dove, Vicenza, mi sbaglio sempre, e volevano finanziare, loro hanno un gruppo di letture pubbliche, di grandi classici della letteratura, che poi prosegue con un canale YouTube, in cui i loro collaboratori si prendono in carico di leggere un capitolo o una parte di un libro. Volevano fare un evento pubblico per diffondere questa cosa, e hanno raccolto pochino, duemila e poco più, però insomma quello che gli serviva per farlo. Loro hanno fatto dei video fantastici, che sono un grande insegnamento, quando i nostri progettisti non si sporcano le mani e non chiedono soldi, non vanno da nessuna parte. Lui ha fatto dei video in cui faceva finta di piangere, strapparsi i capelli, molto buffi, facciano morire dal ridere, ve li farei vedere tutti. Hanno ridoppiato Shining, con la scena di Jack Nicholson che impazzisce, e l'ha doppiato lui dicendo che stava impazzendo perché non gli davano i soldi su Apple. Ci hanno fatto delle cose divertentissime e ce l'hanno fatta anche per il loro progetto, che era molto territoriale e molto molto piccolo. Ok, nella seconda release io salterei la seconda release perché si va molto lontano, salterei questa cosa qui. Vi parlo soltanto al volo degli Apple a Partner perché mi interessano. Questo tipo di progetto in Italia non funziona soltanto partendo dal basso. ha necessità di coinvolgere tutta una serie di reti locali, in questo caso vedete tre istituzioni formative, due sul design e una sulla comunicazione e la letteratura, insomma a scuola non la conoscete perché tutto è a Torino, e stiamo aprendo delle convenzioni con loro, convenzioni che sono un dot-des completamente gratuito. Cioè noi diciamo avete una community, una community forte, i vostri ragazzi hanno dei buoni progetti, avete sicuramente una community che è nel nostro target, che può essere interessata a questo strumento, mettiamoci insieme. Mettiamoci insieme vuol dire banalmente scambiamoci la comunicazione a costo zero, noi sulla nostra community, voi sulla vostra, e noi vi apriamo una pagina in cui i vostri ragazzi possono sottoporci e pubblicare dei progetti che finiranno diciamo con un piccolo bollino di qualità di provenienza dalla loro istituzione. È una cosa che sta funzionando e che stiamo cercando di ampliare perché ci mette in contatto anche con quelle factory di idee, mi riferisco al privato, al singolo che ha un'idea, a un progetto, che sarebbe molto difficile andare ad acchiappare con una comunicazione più generalista, invece cerchiamo di andare a prendere la fonte e anche un po' di promuovere quelli che sono i loro giovani talenti.